L'aneurisma della orta addominale, una patologia che nasce silente, molto pericolosa e che purtroppo può evolvere in maniera drammatica con la rottura delle stesse. Facciamo un passo indietro, cerchiamo di capire che cos'è un aneurisma. L'aneurisma significa dilatazione, in questo caso dilatazione di un segmento arterioso che è appunto la orta. La orta addominale rappresenta la sede più frequente in cui si sviluppano queste dilatazioni, questi aneurismi. Lo specialista quindi ha il compito di monitorare la patologia aneurismatica in un modo molto molto semplice, valutando i diametri dell'aneurisma, nonché i tempi di accrescimento dello stesso, perché dai tempi di accrescimento il chirurgo vascolare si rende conto dell'evoluzione di tale malattia. I rischi della rottura che vi ho accennato prima riguardano appunto, sono direttamente proporzionali alla diametro dell'aneurisma stesso. Quindi calcolando che una orta normale ha un diametro di circa 2 centimetri, salendo con i diametri, quindi andando verso diametri che superano i 3 centimetri, quindi diventano progressivamente di 4 e 5 centimetri, lo specialista ha il compito di vagliare sulla situazione clinica del paziente. Il rischio di rottura si manifesta in maniera importante per diametri dell'aneurisma al di sopra dei 5 centimetri. In questo caso scatta l'indicazione chirurgica al malato, perché? Perché dobbiamo proteggere il malato da questo benedetto rischio di rottura. I fattori di rischio che incidono in questa patologia sono quelli di tipo cardiovascolari e quindi l'ipertensione, le dislipidemie, cioè l'aumento del colesterolo e trigliceridi nel sangue, il diabete, il fumo di tabacco. È logico quindi che in pazienti del genere l'evoluzione di malattia è più rapida. Le tecniche che ci permettono appunto di fronteggiare questa patologia sono essenzialmente due, la prima chirurgica open e la seconda per via meno invasiva endovascolare. È naturale che con la seconda tecnica in assenza di incisioni noi riusciamo a avere un decorso post-operatorio sicuramente più agile per il paziente e ottimizziamo anche qui la sua qualità di vita post-operatoria.